Gli obiettivi sono diversi perché Provincia di Racconta è la presentazione di un concorso letterario che è aperto a giovani scrittori e noi abbiamo giovanissimi scrittori bravissimi allora gli diamo la possibilità di esprimersi presentando un racconto che poi verrà raccolto appunto in un libro, una pubblicazione che la provincia di Lecce poi divulgherà quindi la possibilità in qualche modo di esprimersi in un concorso, anche un concorso a premi in denaro e quindi anche l'incentivo a scrivere e a scrivere bene e poi c'è però una rassegna letteraria, una presentazione di libri tra i più importanti del momento e questo fa parte di una politica di educazione alla lettura che la provincia in ogni modo cerca di portare avanti soprattutto per i giovani e che sta avendo già abbastanza successo perché comunque i primi appuntamenti si sono già svolti quindi diciamo da una parte l'educazione alla scrittura, alla bella scrittura, da parte l'educazione alla lettura e tutto poi condito con tre appuntamenti di teatro davvero molto belli che vedono la presenza di tre monologhi al paesiello anche il teatro fa parte della nostra cultura quindi era giusto inserire anche questo momento teatrale